attento la palla vado a prenderla dove stai andando vado a controllare l'acqua cambiamo look indovina in cosa si trasformerà catnap si raccogli i materiali unisci le parti provale la cintura disegna le squame decora con i glitter il talismano della luna crescente fatto cosa c'è in fondo vado a vedere cosa c'è laggiù è un bel posto sarà più caldo qui catnap ha bisogno di una mamma prendi un po di argilla realizza un cavalluccio marino fai le branche attorciglia la coda dipingi di bianco ombreggia con l'azzurro decora con le lentigini attacca gli occhi un corno il cavalluccio marrino crafty corn è pronto crafty corn a specchio al tuo servizio mi metterò un po di rossetto possiamo andare adesso ariel sei pronta fate largo che svolta ariel porta fuori la spazzatura sollevo c'è uno piccolo qui vieni da me come sei finita qui crafty al palazzo presto la tua nuova casa ecco il tuo letto ti piace sì dormi oh che dolce bambina lalilu sono cresciuta aiutami con il mio look mettiamoci un po di rossetto cambia il colore degli occhi aggiungi una pinna squame scintillanti cambia il top il suo girocollo preferito non dimenticare la corona e le orecchie catnap è un'incredibile sirena sei sveglia ti insegnerò tutto mamma guarda le meduse prendile presa il tempo vola un giorno ti innamorerai è una sensazione bellissima o condividono un legame così forte no quello no perfetto coloralo di rosa voilà decora con un nastro cappello e occhiali un must have dell'estate sembra che non ci sia nessuno qui ottimo posto nessuno ci disturberà l'importante è non scottarsi protezione solare applichiamola che raggi cocenti catnap sa come rilassarsi cos'è quella nave ci deve essere qualcuno lì oh oh il tempo sta peggiorando il vento si sta alzando sta arrivando un temporale sta diventando pericoloso è ora di andare sott'acqua presto oh no dog day non sa nuotare stai bene presto arriva cos'è chi sei ma la soccorritrice è scomparsa prepara un volantino stampa ritirali dalla stampante avvolgi con lo spago ci aiuteranno a trovare catnap aiutami a trovarla l'hai vista no mi dispiace scusami la riconosci no conta quanti volantini ci sono uno due tre quattro bene 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 cos'è successo qui la conosco ti porto da lei catnap è nell'oceano immergiamoci sì dammi la mano ma io io ho oh serve un piano b lalilu ha bisogno di aiuto prendi il b flex delinea il contorno eccellente crea la parte superiore cuci attacca un talismano aggiungi le pinne dog day è pronto per incontrare la sirena grazie lalilu buon pomeriggio come posso aiutarvi attrezzatura subacquea taglia media ce l'ho voilà non va bene no ariel proprio quello di cui avevamo bisogno la prendo sbrighiamoci come ti senti molto meglio adesso l'hai vista la giù grazie ti ho trovata catnap sono qui la mia maschera sono io dog day mi ha chiesto di uscire prepara i materiali infila sul filo di ferro voilà fissali incolla ai lati lega con un nastro un bouquet in stile marino catnap sta fantasticando sull'appuntamento cosa posso inventarmi non ne ho idea certo lo chiederò ad ariel andiamo sono occupata è urgente cosa puoi aiutarmi certo andiamo dov'è il tavolo che tavolo deve essere questo vai a prendere il tavolo bello scherzo corriamo bravo questo non va togliamo le cose inutili una candela pancake bicchieri entra voilà siediti è bellissimo i fiori o dimenticavo quasi presi per te oh grazie super l'appuntamento è stato un successo prepariamo i materiali prendi il tessuto con paillette cuci il vestito fai delle pieghe aggiungi il tulle evoca una cintura fissa il velo catnap si sposa a inizio la cerimonia subacquea ci sarà la torta due cuori innamorati sto finendo l'ossigeno dite cheese ecco chi arriva la sposa oh che momento emozionante il matrimonio di catnap e dog day che bella coppia si si smac cos'è successo alla coda incredibile guarda presto a terra arrivederci e siamo insieme prepara dell'argilla leggera scegli i colori realizza un gabbiano le zampe sono pronte disegna le pupille dipingi le piume scatto al preparati hai una missione importante bene 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 interessante vediamo degli sposi ritorno alla base novità ho un annuncio c'è una nuova famiglia chi vota finché la coppia abbia un bambino votate sbrighiamoci questa torta è fantastica ragazzi avete visite la prendo cos'è vediamo un'ecografia diventeremo mamme congratulazioni prendi del silicone e il fissativo fatto prepara lo stampo versa il composto che carino avremo bisogno di una palla dipingila mamma provalo disegna un sole è ora di vedere il dottore catnap la tua pancia sta diventando grande pronti una mela un sole catnap dov'è il tuo disegno ne voglio uno anch'io scegli ecco qua bellissimo vediamo vediamo oh una mini catnap congratulazioni ho un'idea lalilu abbiamo bisogno di aiuto siamo pronti prendi un palloncino fatto proviamolo manca qualcosa prendi le misure mettile ai piedi avremo bisogno di un asciugamano è l'ora della piscina dovrei aspettare un po' cosa faccio nel frattempo? chiamerò le mie amiche è catnap oh la mia schiena cos'è successo? si arriviamo presto andiamo ti sentirei meglio ce l'abbiamo fatta ecco l'attrezzatura andiamo scrivete qui sotto quante paperelle ci sono qui super hai qualcos'altro? potete giocare con la palla wow prendi le mamme si divertono tantissimo che giornata meravigliosa come va la tua schiena? le attività acquatiche hanno fatto miracoli prendi una clip per carta copri i buchi aggiungi una maniglia fai diverse tacche i medicinali essenziali sono sempre a portata di mano stiamo morendo di fame hot dog la piccola ha fame hamburger dolci vogliamo tutto che profumino hot dog e ora gelato ancora ketchup per favore abbiamo mangiato troppo dottore avete bisogno del mio aiuto? so di cosa avete bisogno vitamine rendete mister light non sta migliorando ti sentirei meglio in ospedale e questo lo porteremo in laboratorio con noi svuota il vassoio metti un materassino prendi il filo di ferro ridipingi fissa il maniglione decora con una cornice il carrellino è pronto è ora di tornare dalle mamme dottore è tutto pronto possiamo iniziare entra andrà tutto bene ecco la prima bambina ho bisogno di aiuto catnip è il tuo turno seconda bambina la mia pancia entra e non preoccuparti che giornata scrivi quante bambine ci sono nel carrellino una due tre giusto tre trova delle vecchie cuffie taglia un pezzo crea una morbida maniglia disegna le zampe ma di chi è questo ovetto? le mamme felici stanno riposando catnip sono io vi dimettiamo ecco un regalo dall'ospedale lascia che ti aiuti oh che brava bambina siediti ci vediamo ragazze buona fortuna da questa parte? ciao ciao la mia piccola stai attenta per strada corriamo a casa prepara il tessuto applica lo stampino segna con dei trattini serve del feltro chiudi con il velcro cuci una tasca questa tornerà utile oh che caldo ci vorrebbe un drink posso avere una limonata per favore? che succede? shh 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 è ora di cambiare il pannolino lalilu in soccorso tira fuori un pannolino aprilo tesoro vieni qui ho bisogno delle salviettine le ho dimenticate oh no oh my gosh ne ho alcune io puliamo la bambina ora il borotalco lalilu puoi aiutarmi a fasciarla? ecco qui essere mamma non è facile scegli delle cannucce inseriscine una nell'altra realizza una tettarella ritaglia il blister versali perline fissa su uno spiedino è un sonaglino taglia un pannolino una cintura di feltro proviamola biberone sonaglino inclusi per chi potrebbe essere? lalilu puoi aiutarmi col bagnetto? certo andiamo nella vasca la spugna aiuterà così devi asciugarti e ora è tempo di riposare oh oh sto ancora piangendo premi mi piace per calmare la bambina con la cintura farò in fretta biberon gnam gnam sonaglino sembra che alla bambina piaccia uh silenzio dog day c'è riuscita prendi un po' di feltro ritaglia una falce di luna ritaglia i raggi prendi in prestito un cordino inserisci il filo di ferro un cuscino a forma di mela nascondiamo tutto nell'armadio stanno dormendo le bambine si sono svegliate non piangere la mamma è qui oh no ho un'idea ho una cosa un tappettino da gioco un morbido cuscino appendiamo la falce di luna le bambine sono sotto la protezione degli amuleti anche per noi è ora di relac ho un rullo per le gambe nice ups direttamente in laboratorio scegli una base taglia a metà prepara la base incolla ai lati la alica d'abra borda con il nastro bello morbido per le bambine catnap ha una sorpresa per te straiati piccola che ne dici di un film? chiamola babysitter tutto pronto babysitter professionista al lavoro guarda cosa questi sono per te torneremo presto divertitevi sembra che qualcuno si sia innamorato una bella mancia ecco a te buon appetito quando mi chiamerà? e questo cos'è? un numero di telefono che cos'è? se lo pubblicità niente di speciale cosa? come ha potuto? ah quei piccioncini lui sarà mio prendi un modello scegli una bambola Lil Sis copri la testa crea la criniera e la coda colora di bianco disegna i dettagli ricopri la figurina con lo smalto fissa il corno decora con gli anelli crafty corn ha una missione importante la cerimonia ha inizio non ci posso credere sono così felice anch'io siete pronti a diventare marito e moglie? ti amo io amo te gli anelli se qualcuno si oppone a questo matrimonio mi oppongo non possono sposarsi ma quella chi è? non può essere lui ama me ecco la prova perché siete insieme? dog day spiegalo scandalo al matrimonio ce l'ha fatta ops la foto è falsa oh oh com'è potuto succedere? tornerò cosa sta facendo Miss Delight? crea un travestimento fai una foto ritaglia il piccolo albero raccogli un po' di erbetta scegli delle decorazioni le bacche aggiungi uno stand il modello è molto realistico sta andando alla grande hai talento posso nascondermi qui la coppia si sta rilassando al parco ah che bella giornata chi c'è là dietro? una borsa questa tornerà utile andiamo? ok oh pronto? addormentati ora sei mio ciao ciao oh dov'è mio marito? oh no è stato rapito è rimasto solo il ciondolo prendiamo la stoffa del feltro troviamo del filo di ferro oh ne avremo bisogno posiziona lo stencil ritaglia i pezzi unisci un cerchietto fissa le orecchie attorciglia la coda è passato un po' dall'ultima volta che qualcuno ha pulito ci penso io quante ragnatele adesso spaziamo a dog day piacerà fiori il nostro nido accogliente dove siamo? questa è casa nostra entra vuoi qualcosa mio caro? lasciami in pace devo tirarlo su di morale ballerò per te guarda cosa so fare vedi? oh cosa fare? sono la tua cattynap ti sono mancata? non puoi ingannarmi ma dove è la vera cattynap? prendi l'abaco prendi un pezzo applica un po' di colla a caldo ritaglia una scatola piegala inserisci la carta pergamena prepara le ciambelle conta quante ciambelle ci sono nella scatola esatto sei dolcetti per i più golosi cosa stai sognando sceriffo? ciambelle aiuto è un'emergenza che succede? il mio amato è stato rapito come? quando? stamattina al parco e chi è stato? aspetta guarda lei wow bellissima mio marito deve essere salvato andiamo risolviamo questa cosa sei Miss Delight? tesoro mio amore mio apro dog day aspetta un attimo fammi passare sei molto bella scappiamo dov'è? l'ho perso forse c'è qualcuno di meglio per te prendi gli stuzzicadenti una manciata scegli la pittura colora i pastelli prendi una perla attacca tutti i pezzi una mazza fatta di matite è un'ottima arma prepariamo una sorpresa un tavolo una sedia accendiamo una candela che romantico canti questa? come sta andando l'arresto? sono obbligato ad arrestarti l'amore non è un crimine andiamo siamo arrivati pronta? questa è per te per me ti piace? certamente amore a prima vista balli meravigliosamente anche tu mi vuoi sposare? oh sì congratulazioni alla coppia pronti a giocare? disegna colora attrezzatura sportiva una palla per giocare a pallavolo sì sì suggellate l'unione con un bacio è ora di lanciare il bouquet chi sarà il fortunato? festa in spiaggia prendi presa ancora mi siete dimenticati di noi? la prendo presa dove è finita la palla? vuoi rinfrescarti? sì prego restituisci la palla lasciami giocare la vacanza è stata un successo prendiamo delle lol a lilsis ricolora i capelli cospargi di glitter ora la seconda bambina decora con i glitter cambia il colore degli occhi colora i pannolini attacca i bottoni oh che carine i vostri genitori vi stanno aspettando ciao siamo qui per vedere i nostri amici un attimo li chiamo oh eccovi ciao oh ciao piccola abbiamo avuto due gemelle presto diventeremo genitori anche noi penso che stia iniziando cosa? come? respira abbiamo bisogno di aiuto che succede? aiutala presto dog day e catnep hanno avuto delle bambine meravigliose prendi degli spigli svuota una piccola scatola meglio rosa impasta l'argilla polimerica modella i joystick direttamente in forno fuori scegli e installa un piccolo pezzo un regalo per i papà vi divertite? sinistra sinistra adesso a destra ragazzi potete badare i bambini dove andate? a fare shopping continuiamo quasi acceleriamo i bambini richiedono attenzione oh i piccoli stanno scappando che casino quasi al traguardo ancora un po' addio Xbox oh no la nostra Xbox ho un'idea cosa? così batti il 5 adesso niente ci interromperà oh spero che i ragazzi se la cavino buona fortuna con lo shopping risolviamo l'equazione la risposta un nuovo personaggio mescola le sfumature modella la testa modella il filo di ferro modella il corpo ciao usa un pennello aggiungi la lingua Katnab è una creatura con abilità insolite c'è qualcuno nel cestino oh è solo una gattina corriamo a casa oh da dove vieni? premi mi piace per salvare la gattina dalla discarica sei così carina vieni con me non ti lascerò benvenuti nel laboratorio dei giocattoli guarda chi ho portato una nuova amica oh oh il cagnolino non è contento dell'arrivo della gattina tranquillo non aver paura piccolo perché abbiamo bisogno di lei? smettila diventerete amici sono io il suo preferito la vedremo oh inizia la rivalità scegli una fiaschetta versa il liquido aggiungine ancora un po' prendi i brillantini aggiungi l'olio d'oliva agita bene fanne altre pozioni magiche sto per fare una scoperta mescoliamo gli ingredienti ok iniziamo il procedimento finalmente l'elisire è pronto gli animali giocano a rincorrersi attenti e non toccate nulla finché non torno andiamo corri oh no i malfattori hanno rovesciato le pozioni ciao piccola abbiamo bisogno di te il viola ti sta bene applica i glitter manca qualcosa la piccola katnap ora è un essere umano la pozione ha trasformato gli animali in bambini oh no che cosa avete fatto stavamo solo giocando è successo da solo proviamo a ridarvi le vostre sembianze via oh no non funziona oh che paura dog day come stai? mi piace guarda l'altra pozione sono di nuovo un ragazzo andiamo ho trovato dei libri ehi dove siete? nuove avventure attendono i bambini consegna il laboratorio incolla insieme i tappi mettili nel tappo grande immergi il pennello ridipingi la base l'ali cadabra glitter filo di ferro cogli un fiore un'elica il blaster spara aria il compleanno della gattina si avvicina facciamo una torta prepariamo gli ingredienti iniziamo con la farina il latte impastiamo voilà tutto pronto ragazzi venite la torta buon compleanno piccola spegni le candeline contale per scoprire quanti anni ha la gattina userai il blaster il blaster oh oh il flusso d'aria è troppo forte ops è tempo di fare pulizie scegli una bambola rossa questa è perfetta evidenzia le labbra un po' di pastello secco una base per parrucca copri con le ciocche di pelo un taglio di capelli alla moda prendi il tessuto cuci una maglietta decora con il nastro di pizzo wow acconcia i capelli una giacca cutlap è ora un adolescente alla moda i ragazzi si stanno preparando per un test siete tutti pronti? oh oh distribuisci i fogli iniziate ho dimenticato di studiare idea nebbia del sonno great ha funzionato questo va qui quello va là fatto oh ok è ora di consegnare aspetta non abbiamo finito cutnap cosa hai fatto? ho controllato i test è ben fatto cutnap tutti gli altri devono impegnarsi di più non è giusto prendi il cartone da rilegatura assembla un armadietto ridipingi le pareti appendi l'anta di proprietà di Picchi Piggy disponi le cose sui ripiani oh qualcuno è innamorato un armadietto di una vera fan di Dog Day diamo il benvenuto a Picchi Piggy oh mio caro un giorno staremo insieme cutnap ti andrebbe di pranzare insieme? cosa ci trova in lei? te le darò una lezione questo posto è occupato cutnap cos'hai sulla schiena? dove? perché l'hai fatto? aspetta dove stai andando? non preoccuparti sei la miglior gattina del mondo davvero? certo allora è così addio Dog Day ora ho un nuovo amore filo di ferro fai degli anelli forma lo scheletro prendi l'argilla leggera fai la testa avvolgi la base con l'imbottitura aggiungi il fardo lingua rosa un po' di magia occhi espressivi la gattona ha preso vita meglio non far arrabbiare questa grande gattona cutnap e Dog Day sono cresciuti guardiamo qualcosa sono soli questa è la mia occasione chissimissi si intrufola in casa piano una cattiva ci penso io cutnap cambia forma questo è il nostro aiuto vai via da qui va tutto bene tesoro wow è stato incredibile ora sei al sicuro possiamo continuare a guardare il film amore mio non disturbiamo i piccioncini prendi una scatola scegli la pittura meglio in blu attacca una cerniera al coperchio inserisci una maniglia prendi dello zucchero filato avvolgi i cubetti nel tessuto sorridi che denti aguzzi nascondigli un anello in bocca oh che sorpresa aiutiamo Dog Day a scegliere un regalo cerco qualcosa di unico sei nel posto giusto abbiamo molte opzioni oh troppo grande e che ne dici di questo troppo ordinario oh quante scatole cos'è questa la prendo grazie per l'acquisto qualcuno riceverà una sorpresa caro oh caro ho preparato qualcosa per te apri oh che cos'è interessante oh wow un anello oh che romantico cutnap mi vuoi sposare sì congratulazioni scegli l'argilla leggera fai una palla modella la coda del palloncino uh glitter un biglietto con una sorpresa grandi novità in arrivo la famiglia si rilassa nel parco che bel tempo perfetto per una passeggiata in famiglia oh guardali oh sono così carini tesoro mio caro quando diventeremo genitori amore mio aspettami qui mandiamo una lettera vogliamo diventare genitori spero che funzioni la busta vola in cielo vediamo cosa abbiamo qui un bambino ecco il nuovo arrivo chi è ehi oh wow sono diventati genitori ciao 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 ciao